Un corteo di protesta rumoroso ma ordinato. Così centinaia di disoccupati che si dichiarano indipendenti da qualsiasi sigla sindacale hanno sfilato per le vie del centro. Da un anno e mezzo spiegano di non ricevere risposte dalle istituzioni, al sindaco chiedono nuove possibilità di integrazione al lavoro e rivendicano un sussidio per chi è rimasto senza un'occupazione. Noi siamo tutti disoccupati, ognuno di noi appartiene a un ramo diverso di ogni tipo di lavoro. Oggi ci ritroviamo tutti in mezzo alla strada e non possiamo sostenere la spesa di una famiglia. Chiediamo un aiuto alle autorità per darci qualche piccolo aiuto per poter vivere, tra virgolette, però tuttora non abbiamo avuto nessuna risposta. Il corteo partito da Piazza Massimo si è poi diretto verso la sede della Presidenza e Piazza Indipendenza creando qualche leggero problema al traffico ma già dalla tarda mattinata la situazione è tornata alla normalità. Grazie.